Quasi 50 le persone che sono dovute ricorrere alle cure mediche dopo aver mangiato sushi e sashimi, cibo da sporto prelevato in un noto ristorante orientale del borgo. Per tutti la diagnosi è stata la stessa, intossicazione da alimenti. Adesso i carabinieri di Sansepolcro hanno così sospeso temporaneamente l'attività e denunciato tre persone per lesioni aggravate. Tutti i cittadini di nazionalità cinese, soci tra loro e gestori del ristorante finito sotto accusa. I fatti risalgono allo scorso sabato a decine, infatti dopo aver consumato i pasti incriminati ed essersi sentiti male, si sono recati presso il comando compagnia carabinieri intenzionati a sporgere querela per il danno subito. Così immediatamente è partita l'indagine da parte dei militari coadiuvati dal Dipartimento di Prevenzione di Sicurezza Alimentare dell'Asla. Il primo accesso presso la struttura i militari lo hanno eseguito nelle ore immediatamente successiva ai fatti per effettuare il blocco sanitario degli alimenti e degli ingredienti di difficile tracciabilità, nonché al fine di campionare le pietanze potenzialmente nocive. I carabinieri poi hanno proceduto a raccogliere i numerosi certificati medici delle vittime che si sono recate presso gli ospedali di Sansepolcro, Città di Castello ed Arezzo con sintomi da intossicazione. Adesso l'attività si è conclusa, i militari assieme ai tecnici dell'Asla hanno apposto i sigilli al ristorante sospendendo temporaneamente l'attività. È invece ancora in fase di definizione quale sia stato effettivamente l'alimento che avrebbe causato i malori. Nel frattempo il titolare del ristorante ha scritto un posto sul profilo Facebook nel quale si scusa con tutti i clienti. Stiamo ancora controllando i cibi con l'Asla, si legge, ma fino ad adesso non abbiamo trovato ancora il problema, ma voglio assicurare che il pesce era arrivato sabato mattina. Noi non ci stiamo togliendo la responsabilità, ma stiamo cercando il problema.